L'Ufficio Scolastico Regionale guarda con grande favore questo progetto APVER sul Green che coinvolge le scuole della regione Piemonte, in particolare quella della città metropolitana. Innanzitutto è un progetto internazionale che ci mette in contatto con la realtà trasfrontaliera. Poi affronta un tema, quello del Green, che è un tema trasversale che non riguarda solo singole discipline ma le competenze degli studenti a tutto tondo. Diciamo poi che all'interno di questo progetto noi seguiamo con particolare attenzione uno strumento che è il sussidiario. Questo strumento verrà utilizzato dalle scuole per identificare aziende green con cui collaborare.